Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Entrano in vigore da oggi i nuovi divieti del decreto Draghi, ma nell'Abruzzo a due colori, arancione per il governo, l'ordinanza regionale firmata ieri sera dal presidente Marco Marsilio capovolge alcune nuove regole. I comuni in zona rossa diventano 33, anche se il governatore preferisce non classificarli più in fascia rossa, ma con maggiori restrizioni, visto che l'R con T è sceso sotto l'1, ma resta alta la pressione negli ospedali della regione. Fatta questa premessa, Marsilio preferisce continuare ad applicare le regole previste nel DPCM Conte, quindi anche nei territori sottoposti a maggiori restrizioni sono aperti i nidi e le scuole dell'infanzia. Dal 15 invece via libera la riapertura delle primarie e delle secondarie. A Pescara però, lunedì 8 marzo, apriranno solo gli asili nido, mentre resteranno chiuse le scuole materne. Aperti anche i centri estetici e i parrucchieri, i quali nella giornata di ieri hanno lavorato ininterrottamente fino ad oltre le 20 in vista di una chiusura che nei fatti non c'è stata. La notizia però è arrivata in serata. Effettivamente abbiamo dovuto anche rimandare alcuni appuntamenti, qualche cliente sono stati chiamati in giornata, qualcuno verrà, siamo in attesa, siamo felici comunque di questa cosa, solo che il problema a solito, forse un po' troppo in ritardo, l'abbiamo saputo, dovevamo saperlo prima, per evitare di accalcare anche clientela sempre nelle norme all'interno del salone. Niente, siamo felici comunque di questa generosa concessione. Abbiamo lavorato per cercare di accontentare tutta la clientela, ma è normale che tutto ciò porta un disagio per oggi e poi bisogna muoversi tramite social affinché la clientela, tutte le persone possano sapere che il servizio è attuabile. Ma tutto questo porta danneggiamento a quello che è l'azienda. I clienti sono felici. I clienti sono molto contenti, anche perché senza di noi non possono stare.